Nuova soluzione per il sindaco di Oletta Pietro Pessolano. Il Tribunale di Lago Negro ha assolto il primo cittadino dall'accusa di abuso di ufficio per aver dato un incarico al geometra comunale Francesco Gian Cristiano, ritenuto illegittimo dal segretario comunale di allora. Il segretario infatti prima chiese a Pessolano di revocare questa nomina e di fronte al no del primo cittadino lo denunciò alla Corte dei Conti e alla Procura. Pietro Pessolano fu rinviato a giudizio insieme al tecnico comunale ma il sindaco difeso dall'avvocato Raffaele Boninfante è stato assolto perché il fatto non sussiste. Pietro Pessolano è stato in Tribunale per spiegare la vicenda raccontando anche di un certo distacco nei rapporti con il segretario che infatti voleva sostituire. Lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione di Pessolano, richiesta assecondata dal Tribunale preseduto dal giudice Scorza. Ha assolto anche il geometra mentre la pratica nella Corte dei Conti è stata archiviata.